Ciao a tutti, benvenuti nel mio primo video di unboxing. Oggi parliamo della DJI Osmo Action, la prima versione, che anche nel 2022 rimane una macchinetta a veramente tutto fare. Guarderemo sia l'unboxing che i principali settaggi, ovvero come utilizzare al meglio questa macchinetta nella vita di tutti i giorni. E niente, bando alle ciance, via l'unboxing! E rieccoci con la nostra Action Cam DJI Osmo Action. Bene, apriamola. Io ovviamente l'ho già aperta per metterla sotto carica e poter farvi vedere le impostazioni. Comunque, una volta aperta, si presenta così. La cam ovviamente ha il suo case che noi adesso andiamo a togliere per montarla. Come vedete qui c'è il vano batteria. Questo sportellino qui di lato, che si apre spingendo e trascinando verso il basso, contiene sia la microSD che il foro per il cavo per ricaricare la batteria. La microSD, come vedete, l'ho già inserita e ho preso una SanDisk Pro, Extreme Pro. E all'interno invece di questa scatoletta troviamo tutti gli accessori in dotazione. Quindi, in primis, la batteria. Particolarmente comodo la custodia con quest'inserto per inserire la microSD e non dimenticarsela mai. Come vedete, la batteria ha quest'elastico arancione che serve per garantire il carattere waterproof fino a 11 metri dell'action cam. Infatti, quando noi la inseriamo, dobbiamo stare molto attenti che non ci siano questi elementi arancioni in questi indicatori. Infatti, noi dobbiamo premere fino in fondo, fino a sentire il click, e controllare che non ci siano bande arancioni presenti in questi due bottoncini. Bottoncini che servono anche poi per estrarre la batteria in questo modo. Prima si scorre in questo modo quella a destra, poi quella a sinistra e viceversa. E la batteria salta fuori. Noi, riprendiamo, inseriamo bene. Vedete, in questo caso non l'ho inserita bene, quindi mi compare questo elastico arancione di fianco. E premendo più forte scompare. Ora la caratteristica waterproof è ripristinata. Accendiamo. Una volta acceso vi chiederà prima ovviamente di scegliere la lingua, l'italiano non è supportato e vi metterete ovviamente inglese. E in secondo luogo vi farà scaricare l'app per poter sia aggiornare il firmware che collegare appunto il vostro smartphone con la DJI Osmo Action. Per quanto riguarda l'app DJI Mimo, per chi come me ha uno smartphone Android la situazione si complica leggermente perché non la troverete, o meglio non la troverete sicuramente aggiornata, all'interno del Play Store. Infatti dovrete andare su il sito proprio della DJI, nella pagina dedicata appunto all'app Mimo, e scaricare l'app Kapp gratuito e aggiornato. In questo modo funzionerà tutto al meglio, non avrete disconnessioni e potete procedere ad aggiornare il firmware, che è la cosa più importante da fare appena scaricate appunto l'applicazione. Inoltre abbiamo la vite di montaggio, l'adesivo piatto, l'adesivo curvo, ottimo da attaccare ad un caschetto, e infine il cavetto di ricarica. Allora, guardando più da vicino l'Action Cam, vediamo che ci sono tre bottoni principali, ovvero quello di accensione e quello di inizio registrazione oppure scatto foto, e soprattutto quello più comodo che imparerete ad amare è questo qua, delle modalità estremamente utili anche per switchare tra lo schermo grande e lo schermo piccolo durante le vostre registrazioni. accendiamo. Ok. Innanzitutto, come vedete, lo schermo è grande, luminoso e vi anticipo molto reattivo. scorrendo dall'alto verso il basso ci si apre il menu delle impostazioni, potete decidere la luminosità dell'LCD, scegliere se bloccare o meno lo schermo, attraverso la sua IPAP si sbloccherà, abbiamo anche scattato una foto senza farla apposta, il menu delle impostazioni dove potete verificare la vostra connessione Wi-Fi, decidere il livello di suono e soprattutto, ecco qua, attivare la griglia che secondo me è molto comoda. Questa è il pulsante che vi permette di scegliere l'ampiezza del vostro schermo frontale. Qua continua a scattare foto a caso, quindi spegniamo un attimo il voice control, che in realtà è molto comodo. Ecco qua. Andiamo nella modalità video, che è quella che interessa di più. Oppa, abbiamo switchato lo schermo. Spiggiamo due volte per arrivare ai video. Eccoci. Come vedete, io ho selezionato la risoluzione in 4K a 30 fps e con la modalità di Cine Like, che adesso vi spiego cos'è. Innanzitutto, il mio consiglio è quello sempre di utilizzare impostazioni manuali e seguire quella che è la regola del cinema. Ergo, utilizzare sempre uno shutter al doppio rispetto ai vostri fps. quindi se decidete, non so, di girare che sia a 1080 in 4K a 30 fps, utilizzare come velocità di shutter un sessantesimo. Se invece preferite la modalità PAL, utilizzare ad esempio lo shutter a un cinquantesimo, quindi 25 fps, il doppio un cinquantesimo. Ancora, se volete girare invece a 60 fps, utilizzate come shutter un centoventesimo. In questo modo, il video risulterà il più naturale possibile, senza avere frame o troppo frizzati, oppure troppo sfocati. Per quanto riguarda invece la modalità di Cine Like, che la scegliamo e la abilitiamo con questo pannello, è particolarmente comoda nel caso in cui vogliate post produrre i vostri video, perché assomiglia un po', cerca di emulare quello che è il log, ad esempio, delle Sony. Quindi abbassa molto la saturazione, il contrasto, per avere video con più dettaglio possibile, ovviamente desaturati e decontrastati, per poter poi lavorarci in un secondo momento in post produzione. Un altro elemento utilissimo è sicuramente il The Warp. Attraverso l'abilitazione di questa voce, noi andiamo a togliere l'effetto fisheye classico dell'Action Cam. Ok. Scorrendo dal basso verso l'alto, si attiva il menu delle risoluzioni e dei frame per secondo. In questo caso, come ho detto, io utilizzo 4K30, potete utilizzare 2K,7, 1080, 720, sia in 4 terzi che in 16 noni. Fondamentale, se vi piacciono i video stabilizzati, è il Rocksteady, che è lo stabilizzatore della DJI Osmo Action. Così lo disabilitiamo, così lo attiviamo. Trovo che sia uno degli stabilizzatori migliori che io abbia mai provato. Infatti, viene lodato in numerosissime recensioni che potete trovare sempre su YouTube. Per quanto riguarda invece l'HDR, è la modalità video invece con l'esaltazione dei colori. Quindi, video più saturati, più contrastati, il massimo che ci fa registrare è 30 fps e soprattutto, come possiamo vedere dal menu, non possiamo abilitare il Rocksteady. Quindi, è comoda se non volete post-produrre i vostri video, ma ricordatevi che questi non saranno stabilizzati. Come dicevo, poi c'è lo slow motion fino a 8x in 1080. Quindi, questo cosa vuol dire che scatterà con 240 fps. per secondo. Poi qua abbiamo i timelapse. Io ho scelto di girare in 4K. Qui in alto potete scegliere la vostra risoluzione. Ok. Ed è estremamente comodo perché potete scegliere l'intervallo tra una foto e l'altra, la durata delle riprese e in base a questo l'action cam vi dirà già quanto durerà il vostro video finale. Quindi, una foto ogni 4 secondi per 30 minuti avranno come risultato un video di 15 secondi. Un consiglio che vi posso dare è se utilizzate intensamente l'action cam è state attenti poi a toccare sia la ghiera dell'obiettivo che la griglia qua sotto perché diventano molto calde. Un'altra cosa essendo che siete limitati ovviamente alla regola del cinema quella che vi dicevo prima ergo dello shutter al doppio degli fps che utilizzate a volte la luminosità può essere tale da bruciarvi tutti i vostri video quindi da renderli troppo sovraesposti. Per ovviare a ciò su Amazon sia originali DJI oppure della Freewell ci sono in vendita degli ottimi filtri che si montano smontando svitando il coperchio qua e si montano sopra sono filtri che possono essere polarizzati o meno e servono appunto per togliere degli stop per ridurre la quantità di luce che entra nell'obiettivo questo è quanto le altre funzioni le lascio a voi hanno fatto vedere che scorrendo da sinistra verso destra si apre eccole qua la nostra galleria con foto fatte a caso questo è il primo video fatto di sera in cameretta non male sera tardo pomeriggio ed eccoci un'altra cosa comoda può essere ad esempio la visualizzazione nella galleria attraverso questo menu a tendina che vediamo qua in alto che ci permette di selezionare i video le foto i timelapse gli slow e soprattutto anche se c'è qualcosa che ci piace che vogliamo selezionare vogliamo sprodurre quindi indicare in un qualche modo mettere il cuore il like e ritrovarcelo poi in questa cartella ok direi che questo è tutto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima ciao ciao